Il Piano Nazionale Cronicità e la Missione 6 del PNRR hanno tra gli obiettivi l'implementazione dell'impiego di strumenti e tecniche di telemedicina per la gestione della cronicità. Ne parliamo con Francesco Gabrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina dell'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo incontrato a Roma alla presentazione delle raccomandazioni per l'applicazione della medicina digitale nei modelli di presa in carico delle persone che hanno patologie croniche, reumatologiche e dermatologiche, realizzato da Crea Sanità con il contributo non condizionante di UCB. Cominciamo dal Piano Nazionale Cronicità, un documento del 2016 che ha al centro la persona. Quali sono i suoi obiettivi principali? L'obiettivo principale del Piano della Cronicità è sempre stato quello di offrire dei servizi in più specifici per i pazienti che hanno una cronicità. Il problema fondamentale è che la difficoltà sta nel fatto che i pazienti non hanno una sola cronicità, molto spesso ne hanno più di una di patologie e questo complica moltissimo l'assistenza. Il Piano mirava proprio a cercare di uniformare in tutta Italia dei sistemi di organizzazione per questo tipo di problematiche di pazienti i migliori possibili con le risorse disponibili al Servizio Sanitario Nazionale. Tenete presente che questo documento è del 2016, quindi risentiva in quegli anni dei finanziamenti ristretti di quegli anni necessari per il bilancio pubblico. Che ruolo dovrebbero avere i servizi e le tecnologie di medicina digitale in questo disegno strategico? Oggi siamo in una situazione diversa dove abbiamo a disposizione dei fondi straordinari, delle risorse economiche straordinarie del PNRR per cercare di potenziare la tecnologia che ha sostegno di tutti questi servizi sulla cronicità. Non soltanto per la cronicità, chiaramente, ma a noi in questo momento è uno dei capitoli però più importanti perché la cronicità riguarda una minoranza di persone in Italia ma è un settore nel quale le necessità di finanziamento sono molto elevate. Quindi tutto ciò che si può fare per ottimizzare la risposta dello Stato ai bisogni di questi cittadini e nello stesso tempo però ottimizzare le risorse e risparmiare è tutto guadagnato per la collettività. Le tecnologie però non servono soltanto a risparmiare, servono anche a dare servizi che prima non erano possibili in nessun modo. Cioè la tecnologia digitale ci consente di fare cose che prima non erano possibili e questo è il grande progresso che ci aspettiamo e su cui stiamo lavorando. Come si dovrebbero utilizzare i circa 8 miliardi di euro previsti del PNRR per la casa come primo luogo di salute per la telemedicina e per l'ammodernamento del Parco Tecnologico Nazionale? Questa è una domanda molto complessa. Intanto è importantissimo che ci sia una coerenza su tutto il territorio nazionale cioè che le regioni abbiano la possibilità di disegnare i servizi che offrono ai loro cittadini in base alle esigenze dei loro territori e alle esigenze di quelle persone ma nello stesso tempo che lo facciano con una modalità che sia almeno coerente con quelle delle regioni accanto. Questo non per un discorso, non soltanto per un discorso etico e di principio ma proprio per una necessità pragmatica, pratica. Un servizio digitale è improbabile che nasca e si sviluppi soltanto in un solo comune o in una sola comunità e invece è distribuito su un territorio molto ampio per cui se i territori non collaborano tra di loro avremmo sempre degli inciampi nell'esercizio di queste organizzazioni e nell'erogazione dei servizi. Quindi collaborazione, coerenza metodologica, scientificità delle scelte e questi sono i punti essenziali perché il PNR funzioni. Quali sono gli ostacoli da superare? Beh, gli ostacoli da superare sono innanzitutto la asincronia tra la velocissima evoluzione delle innovazioni digitali e invece l'evoluzione molto lenta dell'impianto normativo che regola la sanità pubblica in Italia. Questo è un problema molto importante che non facilissimo come si comprenderà bene da risolvere perché se una norma è troppo indietro, troppo antiquata rispetto alla situazione tecnologica che abbiamo disponibile può essere addirittura di ostacolo all'evoluzione. E l'altro problema fondamentale è che quando il denaro del PNRR sarà destinato a dei progetti, questi progetti devono essere portati in fondo in tempi precisi, quelli che ci chiede il patto con la comunità europea, altrimenti rischiamo non solo di non avere dei servizi ma addirittura di dover restituire i soldi alla comunità europea. Quindi è molto importante che i progetti vengano progettati molto bene fin dall'inizio e che scorrano molto rapidamente. E su questo punto c'è anche da riflettere sulla modalità di esecuzione delle gare pubbliche rispetto all'affidamento dei soldi dei bandi. Quindi è una problematica di tipo amministrativo e anche gestionale piuttosto importante. Da un punto di vista tecnologico non ci sono grossi problemi, abbiamo tutte le tecnologie che ci servono e anche le professionisti sanitari sono abbastanza propensi nell'utilizzarle. Ci sono state in passato altre esperienze, non cominciamo in Italia da oggi ad occuparci di telemedicina, lo abbiamo fatto negli ultimi vent'anni. L'unica cosa che è mancata è l'accordo a livello nazionale, questo è quello che serve.